Ehi, mi chiamo Ellie. Abito in fondo alla strada. Io sono Eli. Dicono che siete allergici al mondo. Sì, dicono così. Ha cercato ovunque un medico in grado di aiutarti. Guarirai, tesoro. Promesso. 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 Ciao, Eli. Dottoressa Horn. Salve. Spero che non la consideri una struttura ospedaliera. È una casa per me. Ed è la tua casa per ora. Oh, quanto tempo. Entrà tutto bene. Tutto quello che speravamo. Vogliamo cominciare? Cos'è che ti fa stare male? Molte cose. L'aria, l'acqua, la polvere. Eli peggiorerà prima di migliorare. C'era qualcosa nella stanza. I brutti sogni sono l'effetto degli immunosoppressori che prendi. Ma c'è qualcosa di strano in quella casa. Mi mette i brividi. C'è qualcosa di losco in lei. È il farmaco che fa effetto. Non è certo il farmaco. E anche se fosse perché dovrei stare peggio. Perché sta funzionando. Devono essere successe cose brutte. Dobbiamo andarcene via subito. La sua vita è in pericolo. Perché mi fai questo? Stai male più di quanto immagini. Stai indietro! Non c'ho una malata! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Guarirai, tesoro. Promesso. La sua vita è in pericolo. La sua vita è in pericolo.